Continua la missione di Tommaso Ariemma per la divulgazione della filosofia con una serie di incontri che cominciano oggi presso la Biblioteca Antoniana. Allora, stasera c'è l'incontro dedicato a Kant e Kate Moss, un accostamento abbastanza insolito, non convenzionale, e questa sera cercheremo proprio di affrontare Kant, in modo particolare una parte della sua terza critica, e nello stesso tempo analizzeremo una figura molto discussa come quella di Kate Moss all'interno del mondo della moda. La prossima settimana parleremo di Hegel e dei social network, sempre in Biblioteca alle 5, Ma quest'anno raddoppiamo perché proprio a partire dalla prossima settimana, il 30 novembre, alle 20, ci spostiamo poi di sera, alle ore 20, ci spostiamo al BREC, un pub bellissimo di Ischia, dove tratteremo della questione del cibo e della filosofia all'interno di serie TV, come Breaking Bad, House of Cards e Black Mirror. Quindi ancora una volta la missione, come si diceva prima, degli incontri non convenzionali di filosofia non si arresta. Quindi procediamo, andiamo avanti perché l'isola è ricca e soprattutto ricca di cultura.